Di che cosa tratta il libro Adesso Parlo Io? Lo chiediamo all'autore Fabio Cavallari. Adesso Parlo Io, monologo liberamente tratto da un ragazzo in stato vegetativo, è un libro breve, piccolo, ma molto significativo. È il racconto di 14 anni di un ragazzo di Pordenone, Alessandro Pivetta, che dopo un incidente entra in quella condizione che i medici definiscono stato vegetativo. Con la famiglia Giancarlo e Loredana ho vissuto il quotidiano di Alessandro e a un certo punto mi sono permesso di raccontare la sua storia da un punto di vista particolare, ossia raccontandola in prima persona. Il libro è un libro dove è Alessandro che parla. Mi sono assunto una responsabilità etica e morale e se questo l'ho potuto fare, l'ho potuto fare perché quello che ho vissuto, l'humus che ho vissuto nella famiglia Pivetta, mi ha dato la possibilità di farlo. Cioè di dire esattamente quello che avevo in testa, ossia essere poco lacrimevole, poco compassionevole e inserire un elemento che è quello che deve uscire da questo libro, inserire il laico dubbio che spesso oggi non esiste più. Le riflessioni sull'iniziativa dell'assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci. Una storia che parla del mistero della vita, dell'amore della famiglia, dei genitori, del coraggio e soprattutto della dignità della persona che va al di là di qualsiasi impedimento fisico. Parleremo e approfondiremo i contenuti del libro nella presentazione che si svolgerà sabato prossimo alle ore 17.30 presso la loggia.